Allora, avendo l'opportunità di interpretare, di essere parte di un live action Disney, quale ti piacerebbe fare? Beh, io tutte le principesse ovviamente, beh certo, se no uno deve sempre puntare a non avere le principesse e spesso sono molto noiosa da interpretare tutto sommato, farei forse una specie di mostro, forse sono più portata. Ma ci sono tantissimi film bellissimi di Walt Disney, mi piacerebbe fare per esempio, non so, La Sirenetta o Aladin o tanti altri film bellissimi. Oddio, ma a Elsa non potete fare questa domanda? Non potete veramente, perché ce l'ho proprio da contratto, no non è vero, però sono troppo nel ruolo, quindi ci devo pensare, ma ce ne sono tantissimi. La Sirenetta, ci sono, la Sirenetta sicuramente. Mogli. Troppo, mi sento un po' in Mogli, mi piace, mi faccio un po' quando sono abbronzato, l'hanno già fatto, è vero. L'hanno fatti già due, poi c'è Tarzan che sembra molto, anche Tarzan, va bene, comunque una moneta di due, vediamo. Se dovessi interpretare un personaggio della Disney, non ti viene in mente nessuno, magari un cattivo, non lo so. Beh, dopo Armadillo me ce manca Dumbo adesso. Ahahahah! Ciao! 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 Grazie per la visione!